per la circoscrizione nord-est, il sindaco di Verona ha parlato ai nostri microfoni dei rapporti tra l'Alto Adige e il vicino Veneto, dell'accordo con i Freieitlichen ma anche di Europa e Movimento 5 Stelle. Una candidatura di servizio, così a Bolzano per la campagna elettorale in vista dell'Europea il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha definito la sua candidatura nella circoscrizione nord-est per ora quindi intende rimanere sindaco del capoluogo Veneto quel Veneto che da sempre vede nell'Alto Adige un concorrente sleale grazie alla sua autonomia un'autonomia, dichiara Tosi, che non va tolta a chi ce l'ha ma data a chi ne è privo ed è in questo quadro che il sindaco di Verona inserisce l'accordo con i Freieitlichen. Spirito autonomista, noi siamo il movimento che da sempre, da quando è nato, da più di vent'anni a questa parte ha sempre mantenuto il criterio di difendere l'autonomia, difendere l'autodeterminazione e quindi fra autonomisti si sposa la stessa causa, è nell'interesse di tutto il paese fra l'altro se ci fosse un po' più di autonomia, di federalismo, l'Italia non sarebbe messa come messa. Il federalismo, l'autogoverno, l'autodeterminazione sono una risorsa positiva che i paesi organizzati su base federalista, su base autonomista sono i paesi che hanno i conti più in ordine e che funzionano meglio i paesi centralisti, come l'Italia, sono quelli dove di solito le cose funzionano peggio. Non vuole essere inserito tra gli anti-europeisti, Tosi, ma tra chi chiede un'Europa diversa l'Italia non sa farsi valere, siamo il terzo contribuente tra i paesi dell'Unione ma non contiamo nulla, ha detto il sindaco di Verona e poi, inevitabile, un commento su Grillo e il suo movimento. Il voto al 5 Stelle in Italia ci può stare perché è un voto di protesta c'è la crisi, è vent'anni che c'è la Seconda Repubblica e la Seconda Repubblica le grandi riforme che si dovevano fare per il paese non sono state fatte e quindi la gente ha ragione ad essere incazzata e quando uno è incazzato può anche votare chi dice sfasciamo tutto, mandiamola a casa tutti e quindi dà un messaggio che è solo distruttivo. Però la cosa purtroppo si ferma lì, nel senso che quando uno dà un messaggio distruttivo non sarà mai forza di governo, non sarà mai forza di cambiamento sarà solo una forza d'opposizione che esiste finché la politica non fa il suo dovere quando la politica ritorna a fare il suo dovere, ritorna a fare quello che serve al paese la protesta pura sparisce.